buongiorno e ben ritrovato voi tutto dal vostro nicola da lucia questo ultimo video per ora nelle prossime ore arriverà qualche altro video parliamo della roma che la prima squadra ha perso in casa contro bologna mentre la primavera gli under 19 hanno vinto finita poco fa la partita in casa contro la fiorentina per 2 a 1 in una gara dove giallorossi i lupari sono stati sempre in vantaggio poi gli ospiti hanno trovato un gol a un quarto d'ora dalla fine ma non sono riusciti a pareggiare vittoria della roma quotata bene tra l'1 e 62 l'1 e 57 in classifica al momento la roma è quinta e rimarrà tale per almeno per questa giornata con 30 punti mentre la fiorentina purtroppo ancora immischiata nella zona play out retrocessione tredicesima posizione con 18 punti seconda sconfitta terza nelle ultime cinque partite roma che sarà impegnata settimana prossima a bologna che è dodicesima a 19 punti mentre la fiorentina tornerà in casa il 16 febbraio per affrontare il torino che al momento è undicesimo a 21 punti quindi concludiamo ribadendo la roma primavera vince 2 a 1 in casa contro la fiorentina e dona un sorriso visto la sconfitta dei grandi ciao a tutta la prossima ci vediamo più tardi